Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre 7 milioni per l'edilizia scolastica a Termoli, i fondi, nello specifico destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, per interventi di demolizione e ricostruzione dei plessi, è ciò che prevedono tre dei quattro progetti ammessi a finanziamento. L'altro, invece, attiene ad interventi di ristrutturazione e ampliamento. A darne notizia il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Ferrazzano. La soddisfazione più grande è quella che è stata accolta la nostra richiesta per un edificio scolastico contenente una sezione di asilo nido e di scuola materna a Colle della Torre. Un progetto che prevede un finanziamento di 2 milioni e 68 mila euro, per cui anche il quartiere di Colle della Torre sarà dotato di una struttura per i bambini della zona. L'altro finanziamento che abbiamo ricevuto direttamente è per l'asilo nido di via Volturno, per l'importo di 1 milione e 400 mila euro. prevede la demolizione e ricostruzione in toto dell'edificio. Gli altri due finanziamenti ammessi con riserve riguardano la scuola di via Monte Carlo, la scuola comunale, che anche lì è prevista la demolizione e ricostruzione per 2 milioni e 800 mila euro, e la scuola materna di via Catania per 1 milione e 75 mila euro. Lì è prevista una ristrutturazione dell'edificio con relativo ampliamento. Perciò possiamo dire che siamo soddisfatti perché tutte le nostre richieste sono state accettate. Dall'assessore direttamente chiamato in causa dagli esponenti locali di Rete della Sinistra e Cinque Stelle in merito agli interventi di adeguamento nella scuola Schweitzer, Gli studenti non sono dei pacchi, l'affondo. L'opposizione fa il suo lavoro, la replica. L'opposizione fa il suo mestiere, sicuramente ha sempre da ridire sulle scelte dell'amministrazione. Noi andiamo avanti per la nostra strada, noi ci siamo prefissi come obiettivo principale della nostra amministrazione e la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici. Per cui io penso che i genitori preferiscono sapere di mandare i propri figli in un edificio a norma secondo le norme antisismiche e tutte le norme di sicurezza e non in edifici che hanno le loro carenze.